Per un allenatore disporre di un campo sintetico di nuova generazione, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile, è troppo importante perché è un momento di crescita per questi ragazzi. Ho avuto un maestro come Favini che mi diceva che bisogna lavorare molto sulla tecnica, avere un campo regolare è fondamentale perché si lavora sui fondamentali, si lavora su dei percorsi, sulla gestione della palla e non ha irregolarità, quindi diventa tutto più facile. Lo puoi sfruttare per tutto l'anno senza nessuna difficoltà e quindi io devo dire la verità che in questi ultimi anni qui in Accademia veramente c'è stato proprio un salto di qualità da questo punto di vista con questi campi nuovi. Si possono fare dei paragoni per quanto riguarda gli infortuni sul campo sintetico del passato. Io ho allenato anche a Bergamo, a Monza, a Como e ho avuto delle situazioni traumatiche, mentre negli ultimi anni non ho riscontrato più questo. Poi mi fido molto del mio prof che è una persona spettacolare e lui che mi dà sempre tutti i resoconti, ma dove vai a sollecitare articolazioni, tendini e così, ti dico la verità, non sta succedendo nulla. I ragazzi rispondono bene, non ci sono stati anche a livelli di tramo distorsivi nulla, sta andando tutto veramente molto bene da quel punto di vista. La giocabilità è fantastica perché qui la palla viaggia sempre bene. È una velocità diversa rispetto al campo in erba naturale. Qui la palla viaggia veloce, la tecnica in velocità è importante, non hai difficoltà nel controllo della palla, nello stop, nel calciare in porta. Sono tutti quei fondamentali che servono per la crescita del ragazzo. Si gioca molto bene. Io vedo che i ragazzi, io leno ragazzi che hanno 16-17 anni, sono ancora in quella fascia di età che dico io sono come delle spugne, nel senso che apprendono velocemente e quindi avere la possibilità, come ho detto prima, di lavorare in una determinata direzione, soprattutto sulla tecnica, perché la tecnica è quella che poi ti fa fare anche un salto di qualità, sia tatticamente ma anche nella crescita del ragazzo, è fondamentale. La cosa importante è disporre di questo tipo di situazione, quindi i campi di nuova generazione sono fondamentali. Tu ci puoi lavorare sempre, perché poi a me piace lavorare con loro anche singolarmente e sono tutte situazioni che permettono al ragazzo di lavorare nella maniera corretta. I ragazzi reagiscono bene, arrivano al campo con tanta voglia, hanno voglia di allenarsi, hanno l'entusiasmo giusto rispetto al passato. Io ormai alleno settore giovanile da tanti anni e insomma è cambiato completamente, quindi avere la possibilità di allenarsi su un campo di nuova generazione è fondamentale. Loro reagiscono bene, sono invogliati anche a arrivare prima, allenarsi bene. Devo dire la verità che danno sempre grande disponibilità. Ma io sono felicissimo, davvero, sono soddisfatto di poter allenare, ma anche per me, nel senso che poi la sera ho sempre i piedi asciutti, a meno se diluvia, però quando vai sull'erba alla sera, così l'umidità, qui ti devo dire la verità, mi trovo bene se stavo scherzando, però sia per noi allenatori ma anche per i ragazzi è un piacere, ci troviamo bene. Grazie a tutti! Grazie a tutti!